Il significato della memoria, itinerari nella storia dell'arte sacra d'Acireale, a cura della professoressa Pinella Musmeci e con la moderazione e introduzione della professoressa Maria Chiara Pagano, è stato il tema dell'incontro svoltosi sabato pomeriggio al Foro 147, sito in via Galatea, sede dell'Associazione Nuova Galatea di Acireale. L'iniziativa si inserisce in una serie di incontri su temi differenti che sono curati dall'Associazione che intende sempre di più agire su temi di interesse culturale e sociale legati al nostro territorio. La risposta è stata positiva, l'interesse altissimo. A commentare all'appuntamento di sabato scorso Dario Liotta del direttivo dell'Associazione Nuova Galatea. L'idea è nata dal contatto che abbiamo avuto con la professoressa Pinella Musmeci. Lei ha scritto un libro ultimamente, l'ultimo suo libro, che parla proprio dell'arte sacra d'Acireale tra il 600 e il 700. Da qui è nata l'idea di contattare la professoressa per fare un incontro culturale dal Foro 147. Abbiamo coinvolto anche altre associazioni che comunque hanno partecipato. È stato veramente un successo di persone, come dicevi tu. Un successo anche perché la memoria accese si è persa negli anni e ne abbiamo avuto testimonianza con questo incontro. Tante erano delle cose che non sapevamo, tante altre ce ne sono ancora. Quindi alla fine delle relazioni c'è stata anche la possibilità di colloquiare con queste relatrici che hanno svelato anche quale curiosità maggiormente su questi itinerari. Certo, c'erano stati gli interventi, è stata moderata dalla professoressa Pagano che ha già lei posto le domande alla professoressa, inerenti appunto alla differenza che c'era come artigianato d'Acireale nel 600 e nel 700 e quella attuale. Tante maestranze sono perse, tante tradizioni sono andate per tutte e loro hanno gentilmente e pazientemente spiegato passo passo quello che comunque è successo nei secoli.